Nell'ambito di una convenzione tra il Politecnico di Milano e in particolar modo il Laboratorio Design & Health con Agenas, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, si è definito il quadro delle nuove case ed ospedali di comunità. Queste strutture costituiscono la base per un ridisegno dei servizi sanitari regionali. In particolar modo questa convenzione si inserisce all'interno del PNRR e la missione 6 che è legata al tema della salute. Le case di comunità saranno circa 1.300 su tutto il territorio nazionale e gli ospedali di comunità saranno circa 800. Queste strutture sono previste una ogni 50.000 abitanti e saranno collocate prevalentemente all'interno dei contesti urbani. L'investimento porterà sicuramente un ridisegno del nostro sistema sanitario regionale e nazionale. Queste strutture avranno una dimensione, le case di comunità andranno dagli 800 ai 1.100 metri quadrati, mentre gli ospedali di comunità andranno dai 1.000 ai 1.200 metri quadrati in funzione del livello assistenziale e del contesto di riferimento. Saranno strutture prevalentemente a sviluppo orizzontale e di forte accessibilità da parte dei cittadini in quanto è la precondizione perché queste strutture possano funzionare. Case di comunità quindi accoglieranno la medicina primaria oltre ai servizi di prevenzione e di promozione della salute, mentre gli ospedali di comunità accoglieranno dai 20 ai 40 posti letto in strutture esistenti o in strutture nuove e costituiranno l'anello di congiunzione tra le dimissioni ospedaliere e il ritorno al domicilio. Penso che la grande sfida sia delle case di comunità che degli ospedali di comunità sia quella di garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Quindi saranno strutture non solo dedicate al sistema sanitario nazionale ma dovranno essere fortemente integrati con altri servizi di supporto alla cittadinanza, servizi sociali, servizi terziari, servizi commerciali, servizi di supporto e quindi con questo progetto si attua, quello che oggi è uno dei temi più emergenti nella nostra società, la cosiddetta città di prossimità.